Scarsa adesione dei lavoratori della diagnostica medica di Torrette di Mercogliano collegata al gruppo Malzoni per lo sciopero che era stato indetto a partire da oggi. Nonostante le 31 firme raccolte e sottoscritte dai sindacati nei giorni scorsi, più del 60% dei lavoratori che avevano annunciato di incrociare le braccia, la delusione tra i sindacati è tanta. È diretto Marco D'Acunto, in questa azienda è evidentemente ancora forte il rapporto di padronato, ieri la proprietà ha convocato tutti i lavoratori in un'assemblea ed è riuscita a farli desistere dai loro propositi. C'è stata qualche decisione spintanea da parte dei lavoratori, l'azienda ha convocato tutti i lavoratori provando a convincerli ed evidentemente c'è riuscita a non scioperare questa mattina. Noi ribadiamo che anche sul progetto di fusione di queste quattro società non abbiamo nessuna documentazione, l'unico atto ufficiale che abbiamo oggi è l'avvio della procedura di esubero per 21 unità di lavoratori. Loro hanno chiesto anche l'intervento in prefettura rispetto al nostro atteggiamento che dicono che noi boicottiamo, assolutamente no, noi siamo disponibili a sederci a qualsiasi tavolo con ciò che serve nell'interesse dell'azienda.